Pagliuca Ciacchetti risponde ancora presente Ne disegna tre in barriera Soltanto Pagliuca sul pallone Calcio a potente deviazione Segna mano al Pagliuca Torna a segnare dopo tre giornate Non segnava dal derby Contro Real Ganella Quarto gol in campionato Quarto gol in casa Vantaggio la Pisana Passa con un grande numero Rai di rigore Destro-sinistro Appoggio per Pagliuca Fuori C'è Pappatà sulla linea di fondo Cross morbido La sporca per Ticarini Raccoglie poi con il destro Pagliuca non è lì Pappatà Deviazione per Ticarini sulla linea Non è finita Anzi sì perché spazza via Scartocci Super occasione per l'Atletico Eur Che non punisce Riesce a tenere in cappo sulla linea di fondo Passa con gli effetti speciali Salta anche il portiere E segna Un grandissimo gol Quello del 2-0 Veramente con gli effetti speciali Grande numero sulla linea di fondo Scarta anche il portiere E deposita in rete Il 2-0 Quello che ci voleva per la Pisana Stramerità Briotti Calcia lui col destro Indurisce i polsi Marcheggiani Si rifugia in calcio d'angolo L'Atletico Eur c'è ancora Pappatà Prova ad andare via in bello stile Ci riesce Pappatà Semina il panico Pappatà Sinistro Tutto bello Tranne la conclusione Alta Di seconda Quindi se va direttamente in porta Non vale Pappatà Costietto a toccare Per Rampichini Granfitta Grantino All'angolino La riapre L'Atletico Eur Che stava spingendo tanto Non è Rampichini E Luca Fardelli Che segna il suo settimo gol In campionato Ancora in gol Dopo quello Alla fraschetta del pesce Diventa il leader Score Dell'Atletico Eur Che la riapre Vediamo come lo lavora Bene perché trova lo scarico in Filitti Era di rigore Filitti Grande protezione del pallone Cecchetti lo lascia lì Taroni Ancora una volta Contro l'Atletico Eur Si sblocca Anche in campionato Dopo il gol In coppa Agli ottavi di finale Trova anche il primo in campionato 3-1 la Pisana Forestali In era di rigore Cerca di Briotti Buca per Ticarini Anzi buca De Paulis Briotti la sposta Prova anche a calciare la sua terra Marcheggiani La inchioda O qualcuno Aremo va a chiudere Poi ancora il numero 10 in area Altre finte Palo Sembra la palo interna Invece palo della porta Occasione per mettere il punto esclamativo sul match Forestali sul pallone Calcia E Marcheggiani si guadagna la pagnotta Non è finita Pompei Per Ticarini Mura Calcio d'angolo Stop Dice Arseni La Pisana Vince 3-1 Torna al successo Dopo tre partite senza vittoria Torna invece alla sconfitta L'Atletico Euro Dopo due vittorie consecutive Settimana prossima Partite fondamentali Casalotti La Pisana E Atletico Euro Laurentino Eco City Grazie da Federico Violini Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti